Il mio messaggio è cercare di trasmettere ai ragazzi la forza di guardare al proprio limite, alle proprie capacità, riuscire a trovare la strada giusta. Lo sport veicola tantissime informazioni e quindi è importante anche saper trovare lo sport adatto alle proprie capacità fisiche e mentali. Anche lo sport prova a fare la sua parte nell'intensa attività di diffusione della cultura della legalità nella provincia di Foggia e che vede impegnati principalmente autorità e istituzioni al mondo della scuola. Si è svolto nelle scorse ore presso l'aula magna dell'Istituto Scolastico Gianone Masi di Foggia. L'evento di presentazione del progetto Ripartiamo con lo sport contro la violenza, fortemente voluto e organizzato dalla Fondazione La Capitanata per lo Sport e che ha visto tra gli altri la partecipazione del procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, del questore dottor Ferdinando Rossi e di alcuni campioni dello sport di capitanata. E lo sport è l'occasione giusta, non si può fare una partita di calcio, di tennis o di qualunque altro sport se non ci sono delle regole da rispettare. Lo sport insegna proprio questo, il rispetto delle regole e l'importanza, il valore della regola. Ai ragazzi bisogna spiegare che dietro ogni regola c'è un valore. Per esempio il casco c'è il valore della tutela dell'integrità fisica di chi guida e della persona trasportata. Dietro ogni regola c'è un valore, anzi il valore della regola è il valore dell'interesse che è sotteso alla regola. Questo insegna lo sport, questo dirò oggi ai ragazzi. Purtroppo noi assistiamo in tutta Italia e in questo periodo in particolare a una deriva pericolosissima di alcuni eventi e manifestazioni sportive che generano anche in atti di intemperanza e di violenza. Per cui io credo che educare sin dalle scuole, quindi sin dalla tenera età o dalla giovane età i ragazzi ad approcciarsi a uno sport sia praticarlo che forse la cosa sarebbe la cosa migliore di tutte ma anche da spettatore a viverlo in maniera sana, in maniera sportiva perché è un elemento sicuramente di arricchimento di tutta la società.